Cesena-Catania Il GOS, gruppo operativo sicurezza di Cesena, ha decretato l'impossibilità di giocare per la mancanza delle condizioni di sicurezza per l'incolumità pubblica. Cesena infatti è una città in tilt. La neve ha bloccato tutte le vie d'accesso e garantire la sicurezza sarebbe stato, se non impossibile, molto complesso. Niente Cesena quindi è slittamento anche del recupero degli ultimi 25 minuti con la Roma, da martedì 7 a mercoledì 8, sempre alle 20.45. La gara dei giallorossi contro l'Inter, prevista sempre per sabato alle 15, infatti, è stata posticipata di 24 ore e si giocherà domenica. La macchina organizzativa del Catania, guidata dal team manager Orazio Russo, ha modificato il programma degli allenamenti. Dopo la rifinitura di questa mattina, infatti, nel pomeriggio i rosso-azzurri sono tornati in campo a Torre del Grifo per cominciare a questo punto a pensare alla gara con la Roma, per la cronaca in gol nella partitella in famiglia su Azzo e Gomez.